Buonasera a tutti e ben ritrovati alla nostra videoedicola. Vi raccontiamo cosa troverete sul giornale in edicola domani. Allora innanzitutto partiamo dal meteo, non può essere altrimenti perché anche oggi abbiamo raggiunto un nuovo record, 21 gradi e 7, una temperatura decisamente estiva e invece dobbiamo ricordarci che siamo a novembre e proprio per questo gli esperti ci spiegheranno che cosa potrebbe succedere alle nostre coltivazioni e all'ambiente. E poi parleremo dei funerali di Divina Parodi, la donna di 78 anni che è morte in un incidente in montagna e i suoi funerali commoventi sono stati un modo per ricordare le ultime parole, cioè la voglia di fare un brindisi col marito proprio quel giorno, in ricordo del marito che purtroppo da alcuni anni non c'è più, lei aveva detto agli amici brindo perché oggi è il giorno del cinquantesimo anniversario di matrimonio, gli amici dicono ha brindato con lui ma lassù. E poi parliamo di Tony Capuozzo, il grande cronista di Inviato di Guerra, di Canale 5, che ha parlato oggi agli studenti dell'Università dell'Insubria del caso dei due Marò e vedrete che domani troverete alcune sorprese molto interessanti sulla vicenda sul nostro quotidiano. Una bellissima storia che ci arriva da Gavirate invece parla di giornalisti in erba, sono i ragazzi delle scuole primarie di Gavirate che raccontano ciò che avviene all'interno del proprio istituto attraverso un vero e proprio Tg settimanale realizzato da loro. E poi andiamo a Gallarate dove il sindaco stoppa la richiesta da parte dei pendolari di una navetta che possa renderli più sicuri quando si recano in stazione. La domanda del primo cittadino è ma chi la paga questa navetta? E noi cercheremo anche di capire come mai non sia possibile trovare questi soldi. Infine, a Busto Arsizio c'è una risposta per le difficoltà economiche di moltissimi cittadini, ovvero il problema di pagare il conto del dentista. Ebbene arriva il dentista della muto, ovvero il dentista ospedaliero sarà gratuito. Vi raccontiamo come si fa a mettersi in coda e ad usufruire di queste prestazioni. Grazie.